Togli questo tappeto dal tavolo, togli gli altri quadri, tutta quella roba che ti sembra elegante. Mi raccomando, dove sta Fiorella? Caterina, poi piglia l'alluminio da dentro la cucina, farlo sparire, tutta la batteria, vieni con Fiorella a papà, vieni, prendiamo il nonno e mettiamolo qua, qua, perché se no sta troppo inizia la casa e non va, qua sta benissimo, vieni, vieni con me a papà, vieni, prendiamo il lettino dalla camera tua, mettiamo là fuori, lo mettiamo, lo mettiamo vicino al nostro, hai capito? Togli quel cromofono, togli il cromofono, in casa di povera gente, non si canta e non si suona, ma che è speciale, mettiti qua, ai piedi del nonno, è benissimo, magnificamente bene, vai a prendere quella sedia sfondata che sta nello schiapposito, vai, non scopare, non scopare, è più immondizia c'è, sai, meglio è, è più effetto, non ti prego ancora, la senti, mettila, è benissimo, guarda come si comincia a delineare il quadro, la vedi? La bellezza, la magnificenza, come ci sta bene quel nonno ai piedi del letto, solamente che nel letto ci vorrebbe un ammalato, capisci? noncazza di povera gente, un ammalato fa subito colpo, casarì, casarì, mettiti al letto, chi? Mettiti al letto, tu sei malato, metti dal letto! Vede, mandatiati a fare le pulizie, lo facciamo oggi, qua, non ti preoccupi, metti dal letto! Tu qua si metti d'ёрfuno, state in mezzo a questi imbrogli… Metto a questi imbrogli, io mi preoccupare… L'iporio! Io tengo una posizione! Verticale, adesso deve essere orizzontale, metti dal letto! È ragionціlo tu, aspetta! tirati i capelli davanti agli occhi, fatti brutta, fatti brutta, fatti brutta, ah ma che ce fa poco, va, mettiti dal letto subito, sediti dal letto, copriti bene, perché già siamo a male con lo stomaco, copriti, copriti, va da vedere, qua, siediti quali c'è la tavola, prendi la testa fra le mani per la disperazione e spegni l'occhio per l'angoscia, hai capito, l'occhio deve essere spento, non deve significare niente così, eh fammi vedere, spegni, spegni ancora un po', spegni ancora un po', spegni ancora un po' e allora che non sai fare niente, leva sto braccio, fammiti vedere in faccia come stai, troppo colorito sei, questa mancia troppo mancia, vieni qua papà, fammi una corda, fighiamo un po' di poro d'alco schiaffo non facciamo, ambressa ambressa, guarda cosa si delinea il quadro, guarda sta bella, guarda noi magnificamente figlio, amori bondo, padre paralitico, sposa in angoscia, Mi raccomando, non parlate mai, qualunque cosa vi domande da voi non parlate, non rispondete, lasciate parlare a me, piangete solamente. Papà, io che devo fare? Tu qua non ci stai bene, no, batteli in camera mia, batteli in camera mia, non uscire figliere, non ti chiamo a papà. Fanno di entrare, di avanti. Avanti! No, no, così no. Sono sette giorni che non mangio aruavigli questa forza, da dopo la prendi. Come devo morire? Avanti. Avanti. Mi pare una pagorella che è convulsione. Qua così è fatto, lì poi. Avanti, chi è? Avanti, favorito. Ecco poi qui sono. Ho sbagliato, scusate. No, no, signore, posso un pacco da carta igienica, vatti. No, no, no. Ma che è successo? Non è successo lì, sono affari che non ti riguardano. Tutta la verità, volete che vi chiamo un medico? Non c'è bisogno di me. Un aiuto qualcuno, un pronto sottosso. Non abbiamo bisogno di nessuno. E che è successo? Lì, sono fatti che non ti riguardano. Che è successo, non che è successo? Hai mano a conto a lui, dobbiamo dar conto a lui, mo. Eh, epilogo, epilogo. Che faccio io? Epilogo, piangi, piangi, spegnilo, spegnilo, spegnilo per l'angoscia, spegnilo. Avanti, avanti, avanti. Buongiorno. 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 Ben trovato. Cara contessa, barone rispettabile, cara domagnese, barone Sina, i miei rispetti che... Siete arrivato prima di noi come da dove? Sì, sì, di pochi minuti e oggi ho avuto modo di commuovermi nel vedere le tristi condizioni di questa povera gente. Guardate che tristezza, che squallore, vedete? Anche voi avete voluto portare un dono personale, saccomitato, diciamo. E che cosa avete portato? Ma niente di straordinario, niente, è un semplice aiuto per i momenti di maggiori bisogni di questa povera gente. Vedete che tristezza, figlia moribonda, padre, paralitica, sposa, in angoscia. Ecco a voi, buona donna, questa è tutta roba vostra. Godete, gioite, lo metto qui, qui sopra lo metto qui. C'è cosa peggio, malattia unita alla povertà. Eh, già, già, ho avuto ragione io a non voler portare né cimi né indumenti. Ah, non lo pensate che ha fatto il barone, non ha portato né cimi né indumenti. E che avete portato il barone? Tutti medicinali a base di vitamine. Bene, hai capito? Invece di cibari, le medicine. Eh, bravi. Eh, già, ma a loro serviranno molto. Eh, capisce, sapete come saranno contenti, ma che sanno che hanno avuto il stringa. Eh, ditevi un po', che cos'ha questa poveretta? Don Agnese la ciò sta. Lasciamo perdere, non rinnoviamo la piaga. Il samaritano dice dona senza nulla chiedere, e noi dobbiamo donare. Eh sì, ma bisognerebbe sapere che malattia ha per poterla aiutare meglio. Ma certo, lo facciamo per il bene suo. Vedi, manderemo un nostro medico di fiducia, perché fidarci di quello che dicono? No, se la vogliamo portare solamente per vicinare, che si andrà a fare la tarantella. Mettetegli il cappello, mettetegli il cappello, abbiate pazienza. Eh, dite un po', buona donna, vostro marito lavora? No, domandatelo a me. Don Agnese non parlate, loro non hanno nemmeno la forza di infiatare, povero gente. Volevate sapere? Se il marito lavora, se fa qualcosa. No, no, non lavora, non lavora. Mi hanno detto che è un fannullone, ma scalzone. Anzi, mi hanno detto pure che ha il vizio di bere. Sì, e dice che quando ha bevuto piccia la moglie. Vedete, guardate che tristezza, che squallore. Avanti a piedi, ho capito, ho capito, è un vecchio fascista. No, no, questo è un vecchio rimbambito. Si, ha contratto un trauma psichico sul fronte greco. E nelle guerre puniche volete dire? Perché? Ci avrà perlomeno 90 anni. No, che 90 anni? Questo non ha che 50 anni. Sì, il trauma, la miseria. Vedete come l'ha ridotto, poverino. Dunque, vogliamo stabilire la cifra da dove rilasciare a questa povera gente. Io po' voi ditate. Il più possibile, don'tessa, dato le condizioni. Non solo po' voi ditate un'occhiata alla casa, anche per vendersi conto delle condizioni igieniche di questi poletati. Vabbè, ma la casa l'ho già visitata io. Avete fiducia in me? Sì, va bene, ma vorremmo vedere anche noi, no? Non dispiace a nessuno. No, 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 asato, cominciamo da qui, don't you. Ecco, da là. Comodate, comodate, venite con me. Che allegria, che allegria. Ecco, questo piccolo sgabuzzino, vedete? Qui dentro dorme il povero padre paralitico. Vedete, senza aria, senza finestra, un tanfo. Mamma mia, ma questo è uno sgabuzzino. Uno sgabuzzino. E non c'è nemmeno il letto. Niente, niente. Dorme sulla poltrona, è paralitico. E da per altra parte che c'è? Andiamo a vedere. Possiamo guardare. Andiamo a vedere. Ma si capisce? Dobbiamo constatare, ci dobbiamo constatare. Così, commentatore, il povero vecchio dorme nello sgabuzzino. Sempre, sempre nello sgabuzzino, parola. Sempre seduto su quella poltrona. Sempre, eternamente. Eternamente. Scusi, un'altra domanda. E non si spoglia mai. Non avete sentito la puzza? E' una cosa tremenda, mio Dio.